Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono franke494 in questo nuovo video inizierò la prima parte dove parlerò degli elettrotreni italiani non sono di ottimo umore perché ho provato a farlo otto volte questo video però entro oggi lo devo fare perché l'ho promesso allora partiamo dall'ETR200 dal mitico ETR200 il treno fu progettato dal 1934 al 1936 fu costruito dal 1936 al 41 ed era un esercizio dal 1937 al 1993 furono prodotti 18 convoi il costruttore era Breda e era un treno che ha fatto la storia delle ferrovie italiane infatti era il progenitore di tutti i treni ad alta velocità italiani a partire dal pendolino ETR450 dove sarà l'ultimo treno che parlerò in questa parte questa prima parte di questa miniserie diciamo e il treno era lungo aspettate ok 62,8 metri ed era composto da tre casse quindi come ho detto prima sempre se l'ho detto scusate era il fiore all'occhiello delle ferrovie italiane infatti era proprio un orgoglio nazionale questo treno poteva raggiungere 160 km orari ed era alimentato a 3 kV corrente continua proprio dal muso veniva soprannominato testa di vipera si proprio dal muso perché infatti ricorda molto una vipera e ragazzi il TR220 fu inviato in america per stupire gli americani quindi ragazzi al di là della propaganda proprio era proprio un orgoglio nazionale perché mandare un treno con un traslatante con una nave in america scusate ragazzi mi sono impanato la lingua per stupire gli americani davvero un grande onore quindi proprio un orgoglio nazionale collegava le città di milano bologna firenze roma napoli a reggio calabria e era riclassificato come treno rapido e adesso andiamo al secondo treno e aspettate ed eccolo qui le tr 300 il 7 bello il 7 bello era le tr 300 invece ltr 250 era il suo fratello gemello l'arlecchino che hanno davvero poche se non nessuna differenza scrivete qui sotto nei commenti se ci sono delle differenze allora il treno fu progettato dal 1950 al 1952 fu costruito dal 1952 al 59 ed era in esercizio dal 1952 al 1992 anche questo treno c'è la storia delle ferrovie italiane anche questo era un orgoglio nazionale ragazzi aveva anche una veranda e non era per quello che era un orgoglio nazionale non fate caso e era costruito da breda la società italiana ernesto breda il convoglio era lungo 165,5 metri ed era composto da sette casse sette elementi e scusate se sentite della musica però non fateci tanto caso e la velocità massima era 160 chilometri orari aveva delle ottime prestazioni e fu inalzata a 200 chilometri orari nel 1969 e con un aggiornamento tecnico alimentazione era 3 chilovolt corrente continua e collegava le città di milano bologna firenze e roma era davvero un gran treno che faceva rilanzare le ferrovie italiane dopo la seconda guerra mondiale quindi scusate e davvero un gran treno molto bello mi piacerebbe davvero vederlo in qualche mostra in qualche museo soprattutto passiamo al terzo treno e l'ultimo in questa parte ok eccolo il mio preferito il mio elettrotreno preferito l'etr 450 era fu progettato nel 1982 era in costruzione dal 1985 al 1992 e fu in esercizio dal 1988 al 2015 furono prodotti 15 convogli il costruttore i due costruttori erano fiat ferroviaria ed ercole marelli un treno che era simbolo delle nostre ferrovie e sono molto contento che un convoglio verrà riqualificato come treno storico oppure era già stato riqualificato non lo so fatemelo sapere qui sotto nei commenti ovviamente lo andrò a cercare dopo e davvero il mio elettrotreno preferito davvero fantastico primo treno ad assetto variabile vabbè il primo era l'etr 401 però proprio che ne furono prodotti tanti e era cioè avete capito no e quindi davvero un treno che mi piace un sacco anche per la livrea classica bianco rossa davvero molto azzeccata davvero brutta invece tra le ultime livree che gli ha messo tipo la livrea treno ok ed era ed era treno intercity veniva segnato sui tabelloni e poteva collegare roma milano in 3 ore 58 minuti la velocità massima era 250 km orari ve l'ho detto prima probabilmente no se non ve l'ho detto prima ve l'ho detto adesso comunque ed era alimentato a 3 kg volte corrente continua guardate ragazzi sono un pochino stanco perché proprio lasciate stare 8 ore cioè la notte scusate ancora sono 8 volte che provo a rifare il video e davvero spero che questa sia quella buona poi sono stanco è stata una giornata davvero stancata questa però le promesse si mantengono e sono qui per fare il video sono contento di farlo anche la mia passione mi tiene in piedi e quindi era alimentato a 3 kg volte corrente continua probabilmente avrò detto anche questo però comunque è davvero un grandissimo treno è l'ultimo di questa prima parte questa mini serie sugli elettrotreni italiani ed è il primo treno italiano anche in europa vabbè in europa c'erano comunque l'issè tedesco e il tgv che erano treni a alta velocità che potevano sorpassare i 300 km orari ma comunque il pendolino fu soprannominato così proprio per perché era un treno ad assetto variabile vabbè comunque andatevi a vedere i video perché comunque non faccio qui per spiegarvi il tutto perché non capirete niente perché uno sono stanco due non capirei nulla non capireste nulla quindi il treno collegava roma a milano in diverse località a dire la verità roma ancona perugia roma roma taranto e fu sopra fu cioè ho chiamato eurostar italia cioè nei nei tabelloni ragazzi avete presente no quindi ragazzi per questa prima parte dove parlo degli elettrotreni italiani è tutto perdonate la stanchezza ancora e però dai ci ho provato spero che sia uscito un buon video non ho intenzione di rifarlo perché dopo un po' se va male questa che non si carica lascio perdere lo faccio domani comunque se finisce su youtube grazie mille per la pazienza e la live di ieri è stata cancellata per dei non dico niente perché mi hanno continuato a chiamare mandare messaggi gente che entrava in camera e tutto ho fatto meglio che cancellarla perché sono comparsi dei nomi e delle brutte parole quindi bom per questo video è tutto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale domani la seconda parte e spoiler eccolo qua questo è lo spoiler ciao a tutti è è